Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, si sono in pijama perché sono tornata E niente, questo video vedrete un po' cosa ho fatto oggi, questo sabato Questo sabato ho trascorso con la mia famiglia e siamo andati al Granda Puglia Un grande centro commerciale che si trova appunto vicino alla mia città, Foggia Che si trova in Puglia per chi non lo sapesse Ho incontrato anche due persone in cinema molto importanti Di cui vedete la foto Non so se li conoscete, vabbè una è il giocatore del Foggia E l'altra è la Ciociara che penso la conosciate Poi non lo so, e sono me, la siama Kai Comunque, già ve l'ho detto Allora, spero che vi piaccia questo video Vi faccio vedere un po' i negozi Solo che all'inizio non ci ho pensato di fare questo video Quindi non ho inquadrato in primi negozi che ho visto tipo H&M, Beska, Zara, Tiger Sono andata a me anche da Tiger, bellissimo Però non ho comprato niente perché ci siamo concentrati più sull'abbigliamento e altro Infatti ho comprato un giubbino Da Beska E anche un jeans sempre da Beska mi sembra, sì E niente, sì, niente Poi, vabbè, l'altra è una competizione per i genitori E... Puglia della pizza da Sarni Con patatine, qui, qui, cool E niente, sono tornata e... sì Metto anche qualche foto, qualche boomerang, non so Quindi, sì Spero vi piaccia questo tipo di vlog un po' diverso Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti